Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GeneticDNA e a questo unboxing di un giorno di ritardo, ma è arrivato finalmente. Stiamo parlando di, l'avete già capito dal titolo, Beyond Two Souls, due anime, esclusiva PlayStation, in questa special edition, e questo titolo è dai creatori di Heavy Rain, ora tutti gli antisonari si staranno martellando le palle perché non possono avere questo spettacolo di gioco. Allora qua ci troviamo davanti al titolo con la nostra personaggia Jody, qui nel retro copertina abbiamo alcune scene di gioco, Vivi una vita straordinaria. Qui vabbè ci sono tutti i vari contenuti. E qua ci troviamo a vedere questa sovraccopertina in plastica, e qui abbiamo la favolosa Steelbook, PlayStation 3, la nostra Jody, e il retro di copertina si intravede questo che dovrebbe essere l'Aiden, che in teoria dovrebbe essere la seconda anima, nuda cruda, senza titolo, senza niente. Qui ci troviamo davanti al titolo, al disco, al libretto che sembra molto più corposetto dei soliti. Qui è raffigurata sempre la nostra eroina, il personaggio, per intero, e qui solo questa prospettiva. Io mi aspetto molto da questo gioco, anche perché finora nel 2013 il gioco, uno dei giochi più belli a cui ho giocato è The Last of Us, che secondo me si giocherà al gioco dell'anno 2013, e quindi mi aspetto veramente che questo titolo faccia parte anche delle nomination. Qui vabbè c'è il codice che riscatterò, riscatterò, vabbè, non riesco neanche più a parlare oggi. E niente, finalmente sono arrivato anch'io, e già da stasera partiranno i primi gameplay. Quindi ragazzi, alla prossima. Ciao ciao a tutti da GeneticDNA. Grazie. Grazie.